margarita è sul punto di firmare un contratto che potrebbe distruggere tutto ciò per cui ha lavorato resta con noi per scoprire un intrigo che mette in gioco non solo il patrimonio ma anche la lealtà e la determinazione dei protagonisti margarita è seduta nel soggiorno pronta a firmare un contratto che potrebbe cambiare tutto alla penna tra le dita quando catalina irrompe nella stanza con un'aria di urgenza sia per favore non firmare ancora esclama con la voce tremante ma decisa devi controllare tutto attentamente anche mio padre il marchese è stato ingannato da una clausola subdola margarita sorpresa e un po confusa si ferma va bene catalina chiedo solo un po di pazienza voglio esaminare ogni dettaglio con attenzione risponde posando la penna catalina esce dalla stanza lanciando uno sguardo soddisfatto e trionfante al capitano come per dire te l'avevo detto evo margarita con una lente di ingrandimento figurativa scopre una clausola nascosta nel contratto lorenzo con un trucco intende riacquistare la promessa entro 30 giorni per la misera somma di mille pesetas un vero inganno il marchese colto in flagrante cerca di rimediare rimuoviamo quella clausola così il contratto potrà essere firmato dice cercando di mantenere la calma ma margarita non è una sprovveduta questo contratto è lungo e complesso risponde con determinazione ho bisogno di tempo per rivederlo attentamente non firmerò nulla fino a quando non sarò sicura che tutto sia in ordine margarita si prepara così a esaminare ogni singola parola decisa a non farsi ingannare la sua prudenza e attenzione ai dettagli si rivelano essenziali e la sua determinazione a proteggere la promessa è evidente la tensione è palpabile ma margarita sa che con pazienza e attenzione può superare anche questa prova alonso è furioso dietro tutta questa faccenda c'è il marchese accusa il cognato con il viso contratto dalla rabbia il cognato però lo affronta con calma non c'entra ha ingannato anche me ribatte con un sorriso aggiunge che ha dimostrato di essere più intelligente del capitano sia nel poker che nelle questioni legali prima di partire margarita si avvicina al cognato e con un sorriso di sollievo gilai dice di essere felice che non abbia preso parte a quello stratagemma nell'area di servizio candela legge una lettera del suo amato maestro don carlos il cuore le si spezza mentre scopre che lui ha deciso di partire per vivere con la figlia a gihon lasciandola indietro don carlos spiega che sarebbe troppo egoista separarla dalla sua famiglia e costringerla a vivere con casilda una ragazza con cui non andrebbe mai d'accordo mentre candela è immersa nella sua tristezza mauro e lope arrivano e le chiedono cosa sia successo candela si allontana in silenzio e simona racconta tutto aggiungendo che forse è meglio così la convivenza con la figlia del maestro sarebbe stata un incubo candela con le lacrime agli occhi racconta tutto a romulo e pia i quali vedendo la sconvolta la consolano e le offrono il loro sostegno la cosa più felice dice candela con un filo di voce è che potrò vedere dieguito crescere nel giardino pelajo passeggia con le signorine catalina e martina raccontando i dettagli del business delle marmellate nonostante le critiche di donia cruz intanto la marchesa va da lorenzo per chiedergli spiegazioni su quanto accaduto con il notaio è furiosa l'idea che la cognata possa prendere il 25 per cento del patrimonio ti hanno trattato come un bambino che ruba caramelle esclama con un tono di disprezzo e non dare la colpa a catalina se fossi stato abbastanza uomo non saresti stato così facilmente ingannato lo minaccia di rivelare a tutti la sua sconfitta a poker contro una vedova don alonso prende il tè con suo figlio manuel il giovane appare assorto nei suoi pensieri ancora molto angosciato da tutto quello che è successo confida al padre che il suo matrimonio con ximena non è mai stato idilliaco come quello con cruz il marchese lo esorta a non idealizzare il passato e a guardare avanti manuel rivela di pensare seriamente a tornare a competere con l'aereo se vuoi essere la prima a scoprire come questa drammatica rivelazione si svolge e quali sorprese nasconde iscriviti al nostro canale ora non perdere neanche un momento di questa avvincente storia ricca di suspense e colpi di scena don romulo chiama mauro nel suo ufficio e gli chiede come vede il servizio ultimamente propone di iniziarlo ad addestrare come maggiordomo un grande privilegio per mauro in cucina pia arriva triste dopo aver lasciato dieguito a casa del mugnaio tutti la incoraggiano e simona le assicura che il bambino sarà ben curato nella zona nobile la marchesa e il marchese prendono il tè con ximena donia cruz racconta che una sua amica a vienna le ha chiesto aiuto per far trasferire il marito a madrid temendo lo scoppio della guerra il marchese annuncia che manuel sta pensando di tornare a gareggiare con l'aereo ximena finge un malore svenendo tra le braccia del marchese abel confida ann che è felice di mantenere la sua promessa ma la marchesa non si comporta bene con lui il dottore la rassicura dicendole che lei è la cosa più importante per lui e che crede di essersi innamorato di lei all'improvviso maria fernandez arriva di corsa chiamando il medico per aiutare edi margarita bevendo con catalina racconta tutto ciò che è successo col notaio e ringrazia catalina per il suo intervento spiega che il capitano voleva approfittarsi di lei perché è donna e vedova catalina risponde che lorenzo ha fatto lo stesso con suo padre dimostrando di non avere scrupoli margarita confida alla nipote che da quando è morto il marito fernando si è dedicata completamente alla famiglia e alla protezione dei suoi interessi alonso rimprovera il cognato accusandolo con rabbia dietro tutta questa faccenda c'è il marchese il cognato però risponde con calma non c'entra ha ingannato anche me aggiunge con un sorriso che ha dimostrato di essere più intelligente del capitano sia nel poker che nelle questioni legali prima di partire margarita si avvicina al cognato e con un sorriso di sollievo ghi dice che è felice che non abbia preso parte a quello stratagemma margarita si guarda intorno con ansia mentre firma il contratto all'improvviso catalina irrompe nel soggiorno implorando la zia di non firmare finché non avrà esaminato tutto attentamente le racconta che anche suo padre il marchese è stato ingannato con una clausola subdola margarita decide di prendere tempo e di esaminare ogni dettaglio con attenzione catalina lascia la stanza lanciando uno sguardo trionfante al capitano esaminando il contratto margarita scopre la clausola ingannevole lorenzo intendeva riacquistare la promessa entro 30 giorni per sole mille pesetas margarita cauta e determinata chiede di rimuovere la clausola prima di firmare sebbene il marchese insista affinché firmi subito margarita decide di prendersi il tempo necessario per rivedere tutto da sola la tua opinione è fondamentale per noi iscriviti metti like se hai trovato emozionante il nostro spoiler e commenta qui sotto qual è la tua previsione sul prossimo grande colpo di scena siamo curiosi di sapere cosa ne pensi il tuo supporto ci aiuta a creare contenuti sempre più avvincenti eccoci